Ciao sono Coco. Mamma desu. Ciao. Pranzo desu. Già. Oggi veramente molto giapponese. Zuppa di miso un po' estivo. Ho fatto video. Prego! C'è un po' estivo. 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 Noi usiamo shiitake secco e shiitake crudo in modo diverso. Shiitake secco per fare brodo. Shiitake fresco come verdura. C'è un po' estivo. 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 Supposta il DOCCA, ENOCHI DAKKE, ENOCHI, OSUGA, FRITTO DI tolfu, NAMA SHI TAKKE, TAMANA GINA, Quello più difficile di cuocire, mettiamo sotto! Poi sopra quello più facile di cuocere. Brodo di pesce e arugakombu, un porvere naturale. Acqua, mamma parola in italiano. Accendiamo il fuoco. Questa è anche senza, mettiamo per bellezza, un gusto buono, però in Italia non si trova sicuro. Quando volvito, 10 minuti, circa 10 minuti. Cuociamo poco. Quando volvito, acqua, già, pronto. Quasi pronto. Tofu. Azzì. Tofu non si deve cuocere troppo. Miso. 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 Miso di soya. Miso. Soya. Miso. 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 Mio. 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 Buon terzo. Mi sableccomp coer政ore. Sì, vi hai, vi sbagliato. Ocura, ocura 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 Sì, fare così. Ococere velocemente. Pecchè, però, ne? Pecchè, ne? Pecchè. Pecchè. Hoi. Ok. Ok. Proprio che la una. Sì. Sì, no. Sì. Qui a girare. Sì. 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 Aspettiamo 20 minuti Piccolo forno 15 minuti? 8 minuti 10 minuti Cessi Quindi dovete provare con la popolazione Sì. 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 Fermentato Adesso mettiamo il daviano Eccolo 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 E' questa cosa. Zuppa di miso. Su no mono di gòia. Sottace di giapponese. Mizzunassù. Poi. Tai. Grigliata di orata giapponese. Itadakimasu. Itadakimasu. Karate wa tabura. Cominciamo. Zuppa di miso. Anche estate mangiamo Zuppa di miso caldo. Zuppa di miso calda. Zuppa di miso. 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 Da noi non ogni giorno. Cuociamo. Prepariamo tanto. E poi mangiamo per due giorni. Tre giorni. Appena fatto è più buono. Perché miso. Il profumo di miso. va via. Quando cuocere. Mh. 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 E poi quando sporto, ma lì usiamo. Caluta, tisciù. Oicì, sì, sì, è un giusto. È un giusto per il giapponese, un peice speciale. Il giusto per il giapponese è un giusto per il giapponese. C'è un giusto per il giusto, ma è un giusto per il giusto. C'è un giusto per il giapponese. In Giappone c'è un proverbio. Tai, questo peice. Tai, anche se marce, è tai. Quindi è un peice speciale. Apprezzano molto il giapponese. C'è un giusto per il giusto per il giusto. Non troppo salato, non troppo poco. Giusto. C'è un giusto per il giusto. Tammatama. Grazie, mamma. Sì, è veramente buono. Può mangiare il cuore, come si può mangiare il cuore, no? Sì, si può mangiare il cuore. Per il giapponese ho detto molto speciale. Mangiamo tutto, anche la testa, anche la pelle. Come si chiama quella parte molto duro? Questo è già torto da pescheria. Allora, basta lavare dentro. Poi mettere il sale e poi usiamo un piccolo forno. Ah, ma città è un po' E poi è attagato un po' Per cuocere più velocemente. Chirini oidete. Chirini oidete. Allora, però in Italia ho visto che non ho visto. Un po' Forse potete provare, no? Tagliare una parte più spesso. Allora può cuocere velocemente. In Giappone si fa molto. Mizunasu. Sottacetti giapponese. Tsukemono. Questo è anche fermentato, quindi fa bene per l'intestino. Questa meranzana giapponese si chiama Mizunasu. È più caro, più morbido. È davvero carino? È molto caro. 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 E questo è il nè. Questa meraviglia. È molto caro. È molto caro. È molto caro, no? È molto caro. Non ho lasciato tanto tempo. È molto... Fermentata leggeramente. Il cibo. E quant'è un colpo? Sotto a ceci di solito mangiamo con riso bianco, oggi mia mamma prova un po' riso bianco, con ciotola piccolina di nostra nipotina. Anche se quando mangiamo il riso, mangiamo poco, quantità è poco. Perché sta molto bene con il sottacetto giapponese, il riso bianco. Sotto a ceci giapponese è molto leggero, quindi bisogno di riso, bisogno di calcozza. Invece questo, il mizunasu, è molto leggero. Quindi per me non serve riso bianco, come insalata. A presto. A presto. A presto. Ciao. 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 Ciao.